Sono in corso le indagini da parte della polizia di Benevento per risalire agli autori del maxi danneggiamento registrato nella giornata di ieri. Apertura della stagione venatoria ai danni di almeno sei auto di cacciatori che da Napoli avevano raggiunto una zona di campagna alle porte del capoluogo Sannita per una battuta di caccia. 12 gli pneumatici trovati squarciati dai cacciatori al rientro del giro faunistico. Inizialmente uno di loro aveva notato uno pneumatico forato. Mentre lo stava sostituendo si è accorto della rottura di un'altra gomma. In questo caso non un foro ma uno squarcio lungo una ventina di centimetri. È stato a quel punto che tutti gli altri hanno rivolto le loro attenzioni alle proprie auto. L'amara sorpresa è arrivata nel giro di pochi secondi. Tempo necessario per verificare ed il sospetto si è tramutato in realtà. Tutti i veicoli avevano subito la stessa sorte. Ad ognuno erano stati forati e messi fuori uso due pneumatici. Un danneggiamento vero e proprio e per questo i cacciatori hanno fatto scattare l'allarme al 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Benevento che hanno effettuato un sopralluogo e constatato i danneggiamenti. I malcapitati hanno chiarito agli agenti di aver lasciato le auto in sosta in quel terreno perché di proprietà di un loro amico che li aveva autorizzati. Esclusa dunque l'ipotesi che a creare i danni possano essere stati proprietari dei terreni infastiditi dalle presenze dei veicoli nei campi. Abbiate le indagini, si cerca ora di ricostruire l'intera vicenda e di identificare gli autori dei danneggiamenti.